Ringrazio allora tutti i moderatori e i relatori che hanno partecipato a questa seconda giornata. Comunque se aveste altre domande, noi siamo sempre a disposizione attraverso il sito internet. Le persone che hanno partecipato e sono venute a parlare nella nostra conferenza sono persone che comunque sono in contatto con noi durante tutto l'anno. Quindi non è un grosso problema trasmettere le vostre domande e ottenere delle risposte. Siamo contenti che comunque Acceleron, anche non avendo ricevuto l'autorizzazione a parlare dello studio, abbia comunque deciso di partecipare perché secondo noi era un segnale importante. Purtroppo esistono, al momento in cui subentrano delle strategie commerciali nella realizzazione di uno studio clinico, bisogna anche adattarsi a quelle che sono le politiche commerciali e finanziarie. Ovviamente le aziende farmaceutiche, come tutti noi, hanno un lavoro, devono portare a casa da mangiare i propri figli e quindi hanno le loro strategie. Quello che però deve essere fondamentale è che il canale di comunicazione tra le aziende farmaceutiche e le associazioni deve rimanere aperto. Ci deve essere un'onestà e una capacità di comunicare reciproca estremamente importante. Questo perché non spaventi le famiglie. Esistono una serie di eventi che avvengono continuamente, come per esempio il fatto che attualmente Aventis sia diventata un partner potente di Genzyme. Quindi, non proprio così però, li ha comprati, va bene. E' un partner potente. Comunque, quello che è fondamentale è che si possa dialogare con loro, perché loro indubbiamente hanno tantissimo da ottenere con il colloquio, con le famiglie e con le associazioni. Noi abbiamo tantissimo da aspettare da loro, ma comunque i risultati li otteniamo solo lavorando insieme. Questo è importantissimo. Credo che il PTC abbia testimoniato comunque durante tutto l'anno che ci ha preceduto la volontà di essere qui presente e anche Genzyme oggi sono qui ancora con noi. Dobbiamo poi capire e adattarci ai canali di comunicazione senza smettere di chiedere, perché il nostro diritto è comunque quello, anche perché alle sperimentazioni poi partecipano i ragazzi e hanno ovviamente i diritti fondamentali di conoscere quello che li riguarda. Quindi, ecco, un invito a continuare a collaborare con le associazioni e a mantenere aperti i canali di comunicazione fondamentali. Vorrei chiedere magari a qualcuno di voi se riguardo a quello che è stato fatto in questi due giorni a qualche proposta, a qualche suggerimento che volete affrontare qui insieme a noi oggi, se volete fare delle comunicazioni alle altre persone che sono qui, altrimenti alla conclusione di questa piccola tavola tonda che possiamo fare ora, vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'anno prossimo. Quindi molto volentieri se qualcuno ha una proposta, un suggerimento. Il nostro Vice Presidente. Più che altro mi viene una riflessione spontanea, no? Dopo quello che è un po' anche stata, io penso che questa due giorni. La sensazione di tutte le famiglie a volte è accecata, io penso, dall'ansia dell'immediato che abbiamo e questo penso che è un tratto comune che magari poi ci fa vedere le cose in maniera un po' diversa. Io ieri volevo ringraziare di questo Pat Furlong, ho riflettuto invece molto sulle sue parole quando parlava di quello che è cambiato da dieci anni in qua. E in effetti l'universo è cambiato, lo vediamo per come noi famiglie viviamo e per come vivono i nostri figli. Questo è, secondo me, il segnale di grande conforto che possiamo avere tutti, che magari mentre noi possiamo tornare a casa con la sensazione che poco si è cambiato, in realtà cambia tutto il contesto, cambia lo scenario. E moltissime cose, ripeto, sarebbe interessante rileggere l'intervento di Pat Furlong, anzi io chiederò se è possibile, se c'è qualcosa di scritto, se posso magari può essere messo sul sito, perché ci dà veramente il senso di come cambino le cose e di come noi invece magari dalla ricerca ci aspetteremmo la notizia dell'indomani, il che non è semplice, insomma, avere subito un prodotto a disposizione. Però pensare in quest'ottica di lungo termine e vedere come sono cambiate le cose, io penso che di questo, anche sul piano di quello che è stato il dialogo tra medici, famiglie, poco fa pensavo avere tutti questi attori che parlano finalmente, guardate che dieci anni fa io aggiungerei anche questo, avevamo il problema quando ci incontravamo nei convegni perché i medici facevano una cosa, la ricerca andava per un altro verso e non parlavano tra loro. Penso che una cosa importante che abbia fatto Parent Project sia anche questo, di metterli in comunicazione tra di loro e di questo io non finirò mai di ringraziare Parent Project, Filippo e tutti quanti che si sono spesi. Grazie. Io volevo dire a tutte le famiglie, ho vissuto questa esperienza 40 anni fa in un modo molto disastroso, non è solo migliorato, è quasi un miracolo la collaborazione di tutto il mondo verso questo male che sembra assolutamente incurabile e per cui si apre una via veramente valida. La signora è stata una mamma eroica d'Ushen ed è una nonna eroica d'Ushen. Adesso mi sono emozionato, volevo dire una cosa importante ma non me la ricordo. Passata, ve la spedisco per posta elettronica, appena me la ricordo. E abbiamo bisogno di un nuovo presidente, questo è fondamentale. Ne approfitto anche per ringraziare comunque tutti quelli che ci hanno aiutato per realizzare questa conferenza che immagino, possiate comprendere, non è una cosa che si fa da soli. Questa è una storia vecchia, niente si fa da soli, io lo dico a ognuno di voi ogni volta che lo incontro. Un pezzo di ogni sedia di questo posto è stata mossa e organizzata da voi, altrimenti non sarei riuscito a fare nulla di tutto questo. Quindi grazie che mi ringraziate, ma io faccio finta che quando ringraziate me ringraziate Parent Project che è ben più importante di me. Però la cosa non me la so ricordata e questo è un dato di fatto. Va bene, se me la ricordo ve la dico a pranzo, se no buon pranzo per ora. E grazie a tutti gli ospiti stranieri che sono venuti qui. Ah ecco che cos'era, era una cosa molto importante. Ora me la sono ricordata, vedendo Emilio mi sono ricordato che noi abbiamo un impegno di spesa per l'anno prossimo estremamente gravoso, perché la prosecuzione del trail di Emilio che nella prima fase è abbastanza tranquilla perché riusciamo a coprirla sicuramente fino alla fine del 2011 il trail multicentrico invece avrà un costo estremamente alto. Immaginiamo che possa essere intorno a un milione di euro. Allora noi ci auguriamo che comunque subentri qualche finanziatore più ricco di noi ma nel frattempo appunto hai voglia di mandare messaggini per fare un milione? Quanti ne servono? Dobbiamo chiedere al tesoriere. 500.000 messaggini da 2 euro. Però magari non basteranno questi messaggini che mandate, però intanto se qualcuno lo mandate al 45 507 fino a domani e invitate tutti i vostri amici a mandarli probabilmente già, non dico che siamo a mezza strada, ma almeno la iniziamo la strada. A parte gli scherzi dovremo fare uno sforzo notevole perché oggi qui abbiamo promesso denaro che non abbiamo quindi dobbiamo fare in modo che questo denaro arrivi perché altrimenti se no qui non funziona, cominciano a pensare che io non sono solvente e poi il rischio è grosso. Invece dobbiamo fare uno sforzo perché le cose da fare sono tante. Ognuno di voi chiede continuamente cosa possiamo fare, qual è una nuova attività che possiamo iniziare. Queste sono le attività di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo finanziare gli studi che avete visto finora. Stiamo facendo tutto il possibile per cercare una soluzione e cercarla nei tempi più brevi. Per fortuna collaboriamo a livello internazionale evitando duplicazioni e inutili sprechi di denaro per cui se potete coinvolgere quante più persone potete nella lotta a questa malattia è la cosa migliore che possiate e possiamo fare. Di nuovo grazie, buon pranzo e ci vediamo. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.